Da più di un mese abbiamo fatto conoscenza di Mary, un personaggio nostro rivale che in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, per qualche ragione, seguirà le nostre orme e la nostra avventura. Una ragazza talentuosa che, proprio per questo motivo, è braccata da un gruppo di tifosi fanatici che abbiamo imparato a conoscere con il nome di Team Yell. Siccome fin da subito si sono fatte largo varie teorie e varie speculazioni sul ruolo che Mary assumerà all'interno della trama di Pokémon Spada e Scudo, Quest'oggi, a dirla tutto in mostruoso ritardo, voglio andare a esprimere il mio parere sulla questione cercando di mettere un po' di ordine alla faccenda e in particolare spiegandovi perché, secondo me, Mary non è una principessa come è stato sostenuto recentemente all'interno della community dalla maggioranza dei fan. E dunque signori, credo sia arrivato il momento di darvi il benvenuto a questo nuovo video. Partendo da ciò che sappiamo con certezza, Mary, come ogni nostro rivale, lotterà sì per diventare campionessa di Galar, ma in funzione di un obiettivo per così dire superiore. Obiettivo che, almeno per il momento, non è stato ancora definito. A sostenerla nel suo cammino, come ho già messo in evidenza, vi è un gruppo di tifosi fanatici, ossia il Team Yell, che farà di tutto per far sì che Mary diventi campionessa anche intralciando gli altri partecipanti. A questo punto, però, credo sia arrivato il momento di chiarire una faccenda, ossia il rapporto che vi è tra Mary e il Team Yell. Dal sete ufficiale si evince che la giovane, grazie probabilmente all'influenza che ha sul Team Yell, è in grado di gestire questi tifosi fanatici, il che già ci suggerisce che i due non vadano particolarmente d'accordo. Ma è il trailer giapponese che con più forza conferma la visione che fin da subito avevo sospettato. Grazie, infatti, a una traduzione dei dialoghi in lingua nipponica di Mary, siamo venuti a conoscenza del fatto che quest'ultima definisce il comportamento dei propri tifosi oltraggioso, denotando un'insanabile spaccatura tra i modi di pensare di Mary e i modi di pensare del Team Yell. Quindi tra i due non c'è alcuna collaborazione né una combutta, men che meno un ideale condiviso. È lampante come Mary non apprezzi il sostegno di certa gente e che però allo stesso tempo lo debba anche gestire. Del resto è proprio il sito ufficiale che ci conferma che il Team Yell in Mary non vede nient'altro che una ragazza con un grandissimo talento. Insomma, non pare che tra i due ci sia una condivisione di obiettivi che ha sempre caratterizzato in un modo o nell'altro i team malvagi consueti. Eppure è innegabile che tra questi due poli del discorso che stiamo facendo vi siano delle somiglianze importanti e credo che sia arrivato il momento di analizzarle. Partiamo dal Team Yell. Ho già dimostrato in una mia live come il Team Yell tenti di rappresentare, riuscendoci a mio avviso, un gruppo di giovani repressi che, come spesso accade all'interno del nostro ambiente sportivo, scaricano i loro complessi nel tifo, facendone di fatto la loro ragione d'essere. Tale ipotesi è supportata da quella che sembra essere la loro linea evolutiva peculiare, ossia quella di Zigzagoon, Lainun e Obstagoon. Dei Pokémon che, come ci suggerisce il sito ufficiale, sono molto apprezzati da quella gioventù di Galar che non ha idea di come sfogare la propria rabbia repressa. Non è difficile a questo punto collegare i puntini e capire che quella gioventù a cui il sito ufficiale fa riferimento è rappresentata nel gioco dal Team Yell, che sfoga tutta quella frustrazione immagazzinata nel tifo da stadio. Eppure, se ci pensiamo attentamente, questo non è affatto un atteggiamento che si addice ad un Team Malvagio. Insomma, abbiamo sempre visto Team Malvagio con grandi ideali, con grandi obiettivi, con visioni del mondo, seppur criticabili precise. Proprio perché disillusi, i membri del Team Yell invece non hanno alcun obiettivo e quasi si oscurano alla presenza di Mary che invece un obiettivo ce l'ha e sembra particolarmente determinata a realizzarlo. E così il membro del Team Yell dimentica di non sapere cosa fare nella propria vita e identifica i propri scopi in quelli di una terza persona, in questo caso Mary, che ce li ha e li vuole portare a compimento. Un'identificazione così forte da arrivare a comprendere anche l'abbigliamento, perché sì, nessun tifoso si vestirebbe di rosa se quel rosa non fosse riportato nella divisa, o in questo caso nel vestiario, della persona o della squadra che tifa. Dunque, come vi ho voluto dimostrare, il membro del Team Yell non ha un'identità o un pensiero, ma si oscura dietro a qualcuno che invece ce l'ha, nel nostro caso Mary. Ed è proprio in questo punto che voglio andare a porre il primo tassello che ci permetterà di capire prima il Team Yell e tra poco anche Mary. Il movimento ribelle e sovversivo di Galar non è rappresentato dal Team Yell, che ne è solo la squale d'imitazione, ma da Mary stessa. E con ciò voglio dire che chi a Galar si sta ribellando, in un certo senso, non è chi sta tifando, ma chi è tifato. Facendo un parallelismo anacronistico, ma a mio avviso efficace con il nostro mondo reale, il movimento Grunge, incarnato da Nirvana a inizio degli anni 90, non è incarnato da quella marmaglia di fan che ha iniziato a ascoltare la loro musica solo perché in essa ha trovato una valvola di sfogo alle proprie frustrazioni, ma dai Nirvana stessi che sono riusciti a incanalare questa frustrazione o questo spirito ribelle in un messaggio che è stato poi compreso solo da pochi di quelli che effettivamente li ascoltavano. Spero con quest'ultimo esempio di aver chiarito quello che credo sia il rapporto tra Mary e il Team Yell e soprattutto di aver chiarito le caratteristiche del secondo. A questo punto però sorge una domanda spontanea che riguarda invece il primo polo del nostro discorso, ossia Mary. La domanda adesso è in quale senso Mary sia l'elemento sovversivo di Galar? A cosa si vuole ribellare e soprattutto che cosa vuole dimostrare diventando campionessa? Signori è arrivato il momento di spiegarvi perché secondo me Mary non è una principessa. Ora l'esposizione più efficace della teoria secondo cui Mary sarebbe la legittima erede al trono di Galar è stata portata da Pokémon Millennium e ci tengo a specificare che è un'interpretazione perfettamente legittima da un lato e che c'entra in secondo luogo il senso generale del personaggio di Mary. Quello che voglio fare io però è cambiare un po' le carte in tavola sostituendo a Re un altro personaggio e andando a concentrarmi di più sul lato caratteriale di Mary. Prima di proseguire però voglio subito fugare un dubbio che potrebbe esservi venuto. Mary non è assolutamente un personaggio malvagio e anzi a mio avviso potrebbe essere uno dei personaggi più empatizzanti della storia dei giochi Pokémon. Ma per capire meglio questa mia ultima affermazione dobbiamo partire con l'analisi del personaggio di Mary che inizia non troppo sorprendentemente dal suo Pokémon principale ossia Morpeko. La peculiarità del Pigaclone di ottava generazione come già saprete è quella di avere due forme. Una forma pancia piena nella quale il Pokémon è sazio e dunque mostra un aspetto tenero all'osservatore e una forma pancia vuota nella quale il Pokémon è affamato e dunque si presenta in maniera più aggressiva con un pattern di colori più scuro e con il tipo della propria mossa peculiare cambiato da elettro a buio. Ora sterziamo un attimo e torniamo a Pokémon Sole e Luna e in particolare torniamo a Lilia e Cosmog. Ora la figlia di Samina e la pre-evoluzione di Solgaleo e Lunala sono stati caratterizzati per assomigliarsi molto. Entrambi timorosi e indifesi, entrambi tra le grinfie di Samina seppur ovviamente in maniera diversa ed entrambi a fine trama cresciuti e divenuti più forti. Bene, credo sia evidente che un processo simile sarà presente anche con Mary e Morpeko. Certo non sarà la fame a cambiare forma a Mary come del resto non fu l'essere in un mondo sconosciuto a rendere Lilia timida ma entrambi per ragioni diverse avranno due personalità o meglio come ci suggerisce la categoria di Morpeko una doppia faccia. Guardando attentamente il vestiario di Mary notiamo una contraddizione più che evidente. Una giacca nera e borchiata in perfetto stile punk che copre un vestitino rosa. Penso di essere d'accordo con voi nel dire che l'accostamento è piuttosto singolare e il fatto che ciò sia riportato all'interno del vestito del teamiel fa pensare che questo non sia un dettaglio casualmente centrico ma che abbia un suo preciso significato di caratterizzazione. E così a quanto pare anche Mary ha due facce come il suo Pokémon. La ragazza docile vestita di rosa e la ribelle borchiata. Non solo ma sembra lampante come sia in realtà la giacca nera a voler surclassare in un certo senso il vestito rosa quasi come se Mary stesse cercando di ribellarsi ad un suo modo di apparire che non le appartiene e non la gratifica. Stiamo forse parlando di una giovane ribelle che è stata letteralmente costretta nei panni di una bimbetta docile? In un contesto simile sarebbe del resto perfettamente naturale che la personalità di un essere umano tenti di surclassarne l'etichetta che gli è stata data. E dunque per una ragazza in condizioni del genere quale obiettivo migliore se non quello di dimostrare al mondo intero la propria personalità diventando campionessa? E magari non semplicemente a un generico mondo intero ma anche a chi presumibilmente in famiglia ha preteso che lei fosse chi in realtà non era. Ed è ovvio che diventando campionessa non verrebbe messo in luce solo il suo carattere ma perdonatemi il gioco di parole anche il carattere vincente del suo carattere. Potrebbe essere effettivamente questo il vero obiettivo di Mary consacrare la propria personalità anche davanti ad una famiglia che magari vittima di pregiudizi sul genere femminile ha tentato in vano di renderla il classico stereotipo della fanciulla. E volendo ricordare a questo punto il legame che Galar sembra avere con la storia inglese che più volte abbiamo messo in evidenza su questo canale possiamo anche dire che è proprio in Inghilterra, proprio nella penisola britannica che è nato il concetto di femminismo. L'idea c'era che una donna potesse autodeterminarsi e avere pari diritti che potesse vivere alla luce del sole e non più all'ombra del proprio marito. Fu pergiunta durante l'età vittoriana, ossia nel XIX secolo che si iniziò a minare lo stereotipo della gentile signora una concezione della femminilità che è talmente radicata nella nostra cultura che non è ancora stata battuta e che tuttora resiste ai venti del cambiamento generando purtroppo più volte dei disagi anche all'interno delle famiglie che potrebbero essere analoghi a quelli vissuti da Mary. E allora chi dobbiamo biasimare perciò? In altre parole, chi sono i genitori di Mary? Come già detto, dubito si tratti di un re per una ragione di fatto fondamentale. La figlia di un sovrano, peraltro già adolescente, difficilmente sarebbe sconosciuta a Galar. Il sito ufficiale in merito non ci dice niente e ciò vuol dire che qualora Mary fosse veramente l'erede al trono di Galar dovrebbe esserlo in incognito, ossia le persone non dovrebbero sapere di ciò. Ma per una principessa, questo com'è possibile? Sappiamo che il team Yael vede in lei una brillante stratega ma di fatto niente di più. E ciò vuol dire che al di là del suo talento, Mary a Galar non è nessuno. Per intenderci, Lilia è figlia di Samina un personaggio sicuramente con un nome importante ma la cui posizione non permette di fare luce sulla famiglia. E infatti l'identità di Lilia si scoprirà più in là con il gameplay. Ecco, credo che il padre di Mary debba avere una sorta di posizione simile a quella di Samina. Un personaggio sì conosciuto ma non appartenente a una famiglia reale di cui si spettegola in continuazione ma con una famiglia bene o male comune. Ma perché mai il padre di Mary dovrebbe essere un personaggio conosciuto a Galar? Beh, perché le ribellioni di solito si fanno contro chi ha il potere. E siccome il movimento punk che abbiamo un po' identificato in Mary si erge contro il potere chi meglio di un ricco uomo d'affari potrebbe rappresentare un sistema anzi il sistema? Chi più di un uomo del genere sarebbe emblematico per un personaggio ribelle come Mary? E quindi, andando sempre più a fondo chi più del capo di un sistema anzi del sistema di Galar ossia la lega Pokémon? Esatto signori, il presidente Rose. Rosa come il suo stadio a nord di Galar. Rosa come il vestito che indossa Mary che potrebbe averle fatto egocentricamente vestire. Rosa come il look del Team L. Se prima l'obiettivo di Mary ci sembrava quasi banale ora forse potrebbe non esserlo più. Mary vuole diventare campionessa non per dimostrare qualcosa ad un uomo comune ma per dimostrare qualcosa al capo della lega Pokémon a suo padre e dunque al presidente Rose che forse a questo punto potrebbe accettarla. Forse potrebbe finalmente abbattere uno stereotipo fin troppo attuale nella nostra epoca e infine comprendere quel bellissimo messaggio che Pokémon ha sempre cercato di insegnare ai propri fan più piccoli ma che forse oggi sarebbe più utile ai più grandi. Un messaggio che ci ha circondato e cresciuto dalle parole di Mewtwo fino alla Costituzione italiana e che nonostante tutto ad oggi sembra vacillare. Quel messaggio che ci ricorda che a prescindere dalla nascita e a prescindere dal ceto sociale ognuno di noi ha il diritto di diventare chi è veramente. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto se è così vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!